Sarà garantita fino a fine anno la mensa per gli alunni delle scuole dell'infanzia e della scuola primaria di Monte Corvino Pugliano. La ditta che gestisce il servizio, dopo aver incassato l'indisponibilità del comune a coprire la sua parte di spese, ha accettato di continuare per un importo minore, cioè solo la quota che proviene dai contributi delle famiglie, rinunciando a quella che l'ente comunale non può permettersi di versare e che avrebbe portato allo stop il prossimo 7 dicembre. La chiusura della mensa, spiega la responsabile del settore operativo Federica Alfano, ci è sembrata una sconfitta sociale e lo sarebbe stata anche per la nostra azienda. Di fronte a questo la valutazione economica passa in secondo piano.